Ora che il caso mediatico sorto attorno a Watch Dogs si è relativamente quietato, Ubisoft comincia a pensare al futuro del brand. Lo fa con un contenuto scaricabile a pagamento dedicato alla trama, il quale propone una campagna aggiuntiva collocata successivamente agli eventi del gioco originale. Il protagonista è Raymond T. Bond Kennedy, l'eccentrico ingegnere del CTOS già incontrato in precedenza. Smartphone onnipotente alla mano, grazie ad un invito negli uffici di Ubisoft abbiamo avuto modo per circa un paio d'ore di riscoprire l'ormai ben noto gameplay. T. Bond è risultato da subito un personaggio molto più simpatico del taciturno Aiden Pierce, per il quale provare empatia era quasi impossibile. A livello operativo tuttavia ci troveremo nuovamente nella Chicago tenuta in ostaggio dal CTOS, nel tentativo di arrestare una serie di eventi che potrebbero ritardare i piani di fuga del protagonista. Nelle circa due ore che ci è stato possibile provare, abbiamo notato come i ragazzi di Ubisoft considerino questo contenuto come palesemente adatto solo a chi abbia già completato la trama originale. Bad Blood, infatti, non si spreca inizialmente inconvenevoli, per poi concedersi alla narrazione solo successivamente, in una fase più rilassata, nella quale incontriamo uno dei principali comprimari e familiarizziamo con il covo di T. Bond. Le successive missioni provate con mano ci hanno permesso di notare come, a fronte di un gameplay molto familiare, gli sviluppatori si siano sforzati di inserire alcune novità. Primo e forse più importante aspetto inedito del gameplay è la possibilità di utilizzare Eugene, ossia una macchina radiocomandata modificata, per raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili. Quest'ultima funzionerà come un'estensione dello smartphone, permettendo quindi di hackerare dispositivi da remoto e otterrà con il tempo anche delle caratteristiche aggiuntive. Più modesta invece è l'introduzione di livelli in cui è possibile controllare telecamere dotate di mitragliatrici e lanciagranate, mentre ci si trova comodamente al riparo e assediati dal nemico. Si tratta di una divagazione ben più action e soprattutto riconducibile a molte esperienze già viste in altri sparatutto in terza persona. Dal punto di vista delle modalità di gioco, con Bad Blood viene aggiunta una tipologia inedita di cooperativa per due giocatori, nota come pulizia delle strade. Introdotta inizialmente durante la modalità storia, quest'ultima si rivela poi ripetibile come attività secondaria sulla mappa di Chicago e offre a due hacker in cerca di fortune la possibilità di completare una serie di incarichi. Non si tratta di incarichi che esulano dalla tradizione imposta dal gioco originale, ma completarli in cooperativa risulta comunque divertente. Con la promessa apparentemente mantenuta di almeno sei ore di gameplay per la sola modalità trama e considerando l'aggiunta della nuova modalità secondaria pulizia delle strade, Bad Blood sembra profilarsi come un investimento sensato per coloro che hanno amato il free roaming targato Ubisoft. La trama appare ad un tempo rispettosa dei temi toccati nel gioco originale e in grado di valorizzare il carattere di un protagonista decisamente più estroverso e imprevedibile di Iden Pierce. Questo dovrebbe essere più che sufficiente per risvegliare l'interesse dei fan, mentre l'aderenza alle caratteristiche del gioco originale difficilmente potrà far cambiare idea ai detrattori. Il DLC sarà disponibile dal 23 settembre per tutti coloro in possesso del Season Pass e il 30 per tutti gli altri.